Oggi ho visto banane avvolte nella plastica. Non ha senso. La plastica è intelligente, non necessariamente l'uso che se ne fa. Allora come facevano quando non era ancora stata inventata? Mangiavano meno banane. Ci sono altri materiali. I contenitori di plastica vanno sostituiti. Ma sono infrangibili, leggeri, impermeabili come la plastica? Dobbiamo usare borracce svedesi riutilizzabili. Svedesi? Ma la borraccia devi lavarla e sprechi acqua e detersivo. Ma allora disperdiamo la plastica nell'ambiente? La plastica si ricicla e diventa oggetti utili e opere d'arte. Quando si tratta di plastica, avere ragione non serve. Servono buone ragioni da condividere. Corepla. Per una ecologia dell'informazione.